Ciao a tutte ragazze, bentornati in un nuovo vlog Finalmente, finalmente Oggi ho gli occhi stra stra chiari Comunque Oggi voglio fare un vlog perché vado a un compleanno Dove ci sarà una sorpresa Che io so però Non dico niente insomma Perché voglio che sia una sorpresa anche per voi Perché prima è stata una sorpresa bellissima E quindi voglio che sia una sorpresa anche per voi bellissima Insomma, chiudo la porta E allora Adesso mi siedo sul mio letto Ok, allora vi dico Io sono già uscita da scuola da un po' E ora sono È l'1.56 Quindi quasi le 2 Io sono uscita alle 12.30 Da scuola Però sono andata a comprare il regalo appunto per questo compleanno E sono arrivata a casa l'1.20 E ho già pranzato Ho mangiato la pasta del pomodoro normalissimo E ho provato un mascara che ho comprato Della Maybelline Non so, è di qua E devo dire che mi piace tantissimo Sempre per ballo ovviamente E io adesso mi devo preparare Mi devo togliere il mio smalto orrendo Perché è tutto venuto via Quindi me lo devo togliere Poi mi devo cambiare Perché mi voglio vestire bene Perché sono vestita da scuola Maglione Maglia E jeans Quindi mi Mi vesto meglio E ora io mi vado a preparare E vi dico che al compleanno Ci sarà anche una mia amica Che non so se verrà su YouTube Ma vabbè E ci vediamo dopo Allora ragazzi Io sono pronta E appunto siamo anche già partite E questo è l'outfit Molto molto Semplice Allo stesso modo Bello C'è il sole E sono super felice Ora andiamo al compleanno Sì E al oído suave no sussurro Quiero olvidarte, quiero soñarte Vivir contigo cada instante Quiero besarte, quiero cesarte Quiero tenerte junto a mí Pues amor es lo que siento Eres todo para mí Quiero olvidarte, quiero soñarte Vivir contigo cada instante Quiero besarte, quiero cesarte Quiero tenerte junto a mí Tú eres lo que necesito Pues lo que siento es Amor ¿Cómo estás? Bien ¿Viste divertido? Sí Auguri Un aplauso para Viola, por favor Un pochino indietro Avete visto Que el amor es potente Un puis Indien 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 claim Grazie a tutti. Allora ragazzi sono tornato a casa, la festa è stata bellissima, ho incontrato Leon, non so se ve ne rendete conto, ho fatto la foto e mi ha fatto anche l'autografo. Anche qua, guarda la luce, guarda il blanco. E adesso sto mangiando questi qui che sono i tostarelli. Sono bio. Sono bio, sono praticamente dei robbi così, di pane e sono molto molto buoni. E cioè la festa è stata indimenticabile, è stata bellissima. Sono le 20.01. Adesso guardo un po' i video su YouTube, rispondo alle vostre domande, eccetera. Allora ragazzi io ora sto salendo di sopra perché devo fare lo zaino e poi vado a letto perché tanto i copiti per domani li ho già fatti, dovevo studiare e fare inglese. E quindi ora io faccio lo zaino e quindi direi che questo vlog può finire qui. Quindi se questo vlog vi è piaciuto mi raccomando ricordatevi di mettere un pollice in su. Io vi mando un grosso bacio e al prossimo video. Ciao!